Vediamo insieme come emettere una nota di credito e inserire all'interno della nota di credito il riferimento alla fattura di origine, così come richiesto dal formato elettronico XML dell'Agenzia delle Entrate. Nella simulazione abbiamo già una fattura emessa ad un certo russimario. Procediamo con l'emissione della nota di credito. Apriamo la nota di credito. Ci sono due modalità di creazione della nota di credito. La prima consiste nel richiamare il cliente attraverso il pulsante di copia, selezionarci già direttamente la fattura su cui emettere la nota di credito e collegarla attraverso questo pulsante di collega documento. Se lascio attivato il pulsante in porta agli articoli, prelevo automaticamente anche le righe. In questo modo io ho inserito direttamente le righe prelevandole dalla fattura e contemporaneamente ho creato il riferimento nella nota di credito alla fattura. Se visualizziamo il formato elettronico, nella sezione dati della fattura collegata vediamo esattamente il riferimento alla fattura. Vediamo adesso l'altra modalità. L'altra modalità consiste essenzialmente nel creare per intero la nota di credito con il contenuto che desideriamo. Oppure perché magari la nota di credito l'ho già scritta. Adesso per creare il collegamento con la nota di credito, con la fattura, utilizzo sempre questa funzionalità, seleziono sempre la fattura, collego il documento, ma non importo gli articoli. Così. Nel caso avessi creato una nota di credito senza nessun riferimento alla fattura, io posso comunque salvarla, ho un messaggio che mi avverte di questa situazione, non è un messaggio bloccante, però occorre procedere soltanto se si sa quello che si sta facendo.